Allora, Chino Mazzaglia che è stata la voce storica del carnavale di Mr.Bank, il carnavale torna in questa forma di anteprima, ma a maggio ci sarà la versione, diciamo, ufficiale. Come ci si sente, come ti senti tu soprattutto con questa ripresa di vita? Beh, sai, dopo averlo fatto per tantissimi anni, cominciando al 1981, l'edizione che non si è fatta mi è mancata e quindi dovrei recuperare, non posso fare altrimenti se fare meglio di quello che ho fatto nelle altre edizioni. E' mancato a tutti il carnavale, perché è una grande manifestazione che unisce tanta gente, tanti giovani, tante sartorie Beh, il mio ruolo è quello di dare lustro ai costumi dei miei amici e conterranimi mister bianchesi. Un ruolo che è venuto spontaneo, quando nel 1982 mi hanno detto, gli attuali, quelli dell'epoca, di commentare, presentare. C'erano due gruppi, uno era quello storico di Turri Campanazza e un altro era il CUP, il centro universitario e professionisti. Hanno sfilato uno con il circo e l'altro con il far west. Beh, sfilavano lungo la via Garibaldi e addirittura un giorno pioveva di rotto e la via Garibaldi era zeppa di pioggia, eppure si sfilava. E lì è nato il nostro vero carnevale, questo attuale dei costumi più belli di Sicilia, ma io lo dico più belli del mondo perché i nostri costumi hanno una caratteristica, quello che ogni costume rappresenta qualcosa della tematica. Quindi non è bello perché è fatto con stoffe pregiate, perché chi lo indossa lo sa portare, ma perché ci sono dei riporti alla tematica. Ed è questa la unicità dei nostri costumi. Poi ci sono quelli che sono molto più costosi perché le persone vogliono spendere questi soldi e lo fanno a vantaggio non solo loro, ma di tutti quelli che vedono il nostro carnevale.